Musica Posso dire di essere cresciuta con i film di Miyazaki e sinceramente andare a vedere un nuovo film al cinema ancora mi emoziona e il Castelverante di Aula è il mio preferito e continuo a vederlo malgrado io l'abbia già visto migliaia di volte e non mi stanca mai quindi sono dei film che portano magia comunque nella vita di tutti i giorni e sinceramente ancora mi emoziona quando li guardo Io di Miyazaki amo in una maniera infinita Porco Rosso cioè per me è un film assurdo sulla guerra, sull'amore, su tutto e ritengo Miyazaki come un caposaldo del cinema generale È incredibile secondo me poi anche il fatto che abbiano quest'aria un po' inquietante anche un po' senza senso tra virgolette però un senso si trova sempre in questi film e poi c'è l'atmosfera è pazzesca, è super magica, super fantasiosa e lui è un genio secondo me i film del maestro penso riescano a creare un mondo e darci una sua visione della filosofia dell'onirico e trasportarci sia in un posto lontano come il Giappone sia nella sua mente che ci riporta sia a bambini ma a vivere nuove avventure Ho scoperto Miyazaki al Festival del Cinema di Venezia quando presentò Pony sulla scogliera e debbi l'emozione di vederlo con lui in sala è un regista che riesce a fondere il tema della natura con il meraviglioso e l'immaginazione infantile in una maniera sublime Grazie a tutti